Sette volte l'obiettivo previsto, sono stati oltre 7.000 i chilometri raggiunti dalla 1000 chilometri No Limits, l'iniziativa di sport e solidarietà organizzata dalla fondazione Decathlon insieme all'associazione No Limits al di là del muro. Niente iscrizioni, niente punti di partenza e nessun traguardo, ma sono stati tantissimi partecipanti all'iniziativa che aveva lo scopo di celebrare lo sport inclusivo. L'obiettivo era quello di raggiungere tutti insieme i 1000 chilometri, camminando, pedalando, correndo o andando in sedia a rotelle per solidarietà. Ogni persona che voglia partecipare e collaborare ci deve offrire i suoi chilometri effettuati in qualunque modalità che richieda movimento, quindi bicicletta, piuttosto che corsa, passeggiata veloce e sedia a rotelle. Ci sono anche diverse persone disabili che stanno partecipando e così raggiungeremo questo monte di chilometri totale dei 1000 chilometri ed è un segno di ripartenza soprattutto per i più fragili che sono stati quelli maggiormente colpiti dalla pandemia. È una bellissima giornata per testimoniare ciò che la fondazione Decathlon fa in tutto il mondo, cioè rendere lo sport accessibile in qualsiasi situazione. Oggi siamo qui con l'associazione No Limits, al di là del muro, per testimoniare che lo sport è sempre possibile, in qualsiasi condizione e con qualsiasi abilità. Una di quelle giornate, al di là del fatto che non c'è il sole, che sono belle e interessanti perché ancora una volta l'associazione si è messa a disposizione per poter avviare questa iniziativa insieme a Decathlon. Quindi qualcosa che ci riempie sempre d'orgoglio sia per la disponibilità dei cittadini, degli orlandini e anche degli altri che stanno venendo con notevole affluenza e sia anche per la briosità che loro portano. L'iniziativa ha voluto porre l'accento anche sull'importanza del rispetto dell'ambiente per cui sono stati coinvolti anche i volontari di Capodorlando Pulita, conteggiando anche i chilometri percorsi dai volontari impegnati nell'attività di pulizia della spiaggia. Come gruppo Capodorlando Pulita abbiamo avuto il piacere di abbracciare questa iniziativa organizzata per promuovere la sensibilizzazione e soprattutto la bellezza che sta nella diversità e come gruppo ecologico per la pulizia delle spiagge non potevamo che ovviamente partecipare all'iniziativa. Pensiamo che questa sia una sorta di ripartenza soprattutto per noi persone fragili, soprattutto puntualizzo ancora che è molto importante vaccinarsi così proviamo a tornare alla normalità. Ringraziamo ancora una volta il Decathlon Italia, l'amministrazione comunale, tutti quelli che ci sono stati vicini in questa iniziativa e ringraziamo tutti i partecipanti ovviamente.